I parchi possono essere intesi davvero come un luogo di rinascita, non solo di resilienza e di resistenza a quelli che sono gli effetti dei cambiamenti climatici, ma possono davvero essere il futuro, il volano dei nostri territori e quindi credo che una prospettiva come questa debba vedere la città metropolitana in aiuto ai sindaci, ai comuni che desiderano riuscire a far sì che i loro territori possano avere una nuova vocazione.